E' stato rintracciato il quinto soggetto irreperibile al momento dell'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare dell'operazione Recon dello scorso 4 ottobre. I carabinieri lo hanno arrestato alla stazione ferroviaria di Bastia Umbra. Si tratta di Capotosto Alfonso, classe 1982, che insieme al capo Moretti Pasquale, Morena Alessandro, è gravemente indiziato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Lo stesso rappresentava la parte operativa del gruppo. Grazie alla consolidata esperienza nel settore degli stupefacenti, era infatti in grado di gestire anche da solo, previa autorizzazione del vertice, la compravendita di intere partite di droga e mantenere stabilmente i contatti con esponenti di altre realtà criminali. E' stato associato presso la casa circondariale di Perugia.